La cantante di Skyfall e Rolling in the Deep ha rivelato in un'intervista all'emittente tedesca ZDF di volersi prendere una pausa dalla musica, consumata dai residency show in giro per il mondo. Nessun disco in vista dopo 30 del 2021, ma nuovi progetti più creativi all'orizzonte. Ha detto, il mio serbatoio è piuttosto vuoto. Così Adele annuncia di volersi prendere una pausa dalla musica, intervistata dall'emittente tedesca ZDF. La cantante, rispondendo alla domanda sui suoi progetti futuri riguardo il nuovo disco dopo 30 del 2021 ha confessato di sentirsi senza energie dopo la lunga serie di esibizioni dei suoi residency show che hanno rappresentato un'esperienza emotiva molto forte. I fan però erano già stati avvisati. Durante un'esibizione a Las Vegas a gennaio lo aveva annunciato sul palco che non avrebbe fatto musica per un bel po'. Non canto nemmeno a casa sai? E questo è strano, ha detto. È strano sì, per un artista da milioni di copie vendute, vincitrice di diversi Grammy Awards e anche premio Oscar 2013. A regalarle la statuetta fu la canzone Skyfall dell'omonimo film di 007, ma che, come ha detto, sente il bisogno di una grande svolta nella sua vita e di nuove cose creative. Non è chiaro a cosa si riferisse, ma Forbes nel 2023 ha riferito di un suo legame con una società emergente che si chiama The Shelburne Collective Limited. Adele non è nuova nel prendersi pause. Una volta per laurearsi, poco tempo fa a causa di problemi alla voce e ora per mancanza di creatività. C'è da dire anche che non ha mai avuto un buon rapporto con la fama. Come ha sottolineato nell'intervista, amo fare musica e che le persone siano recettive e che apprezzino ciò che faccio. Aggiungendo che, odio essere famosa e mi manca tutto quello di chi ero prima di diventare una celebrità.